Quello che è la politica, gli interessi, le cose che bisogna fare, che è una cosa stupenda perché è da un palazzo come questo che poi arrivano tutti quelli che sono i benefici per la collettività e la comunità, c'è qualcuno che vi apre la porta alla mattina, c'è qualcuno che deve pulire le strade, che provvede a quelle che sono le vostre necessità. Però state dimostrando una cosa magnifica oggi, che questo può essere un palazzo aperto di condivisione e anche di divertimento. Io vi sono grato per questo e vi ringrazio tantissimo. Grazie.